Va dentro duro, è tirato fuori, esce molle, bagnato. Che cos'è? Va dentro duro e esce molle? No, va dentro duro, è tirato, esce fuori, molle, bagnato. Hmm. Sì. Ho visto. Ma non si possono dire a scelare da dentro? Ah, puoi dire tutto, sei con il leone di polzano, quindi hai possibilità di dire tutto. Può essere il cazzo. Cazzissimo, ah! Ma perché qual è il motivo lì hai detto cazzo? Ma dentro dove? Porco. Dentro, dentro vieni qui, eh. Dentro lì, bocco. Mi viene a pensare male. Dai, puoi dire tutto quello che arrivo in mente? Eh, non lo so, cioè, il cazzo, che cazzo mi chiedeva il cazzo? Ma allora, secondo te quando metti il pizzole dentro diventa dura lì o quando tira è bagnato? Billoni di Citibolzano. Dai, siete molto intelligenti, allora andiamo con lei. Eh, proprio la pizella. La pizella? Cento per cento, Fran. Boh, mi è venuto in mente quello per primo. Vabbè, lei invece? Anche tu ce l'hai qua. Ce l'hai qua, nel corpo ce l'hai già. Ma secondo me non è quello che pensi. Dai, quello che pensi puoi dire. No. Dai, puoi dire che chi è? Come no? No. Mi dico qua, nessuno non senti. Lei invece? Vabbè, sai quanti persone hanno risposto a questa domanda? Puri 20 persone, sei l'unica donna che hai trovato. Anche in masca. Grazie, ragazzi. Brava, brava, brava. Ragazzi, questa è grazie all'intelligenza albanese. Di Citibolzano. E anche al Torcelli. Bolo City, ragazzi, qua non si scherza, bravo. Noi scherziamo qua, da spaccare sempre. Ciao. Seguite questo canale e attivate la campanellina. Mamma mia, è importante o non è importante? È importante, ragazzi. Yo, yo, bella, bella di Verona City. Ci siamo con? Ida. Ah, Ida. Pavesi. Pavesi. Martina. Martina Gardin. Nicole. Nicole, intanto siete molto carini. Grazie. Siete di qua a Verona City? Sì. Che fatti in giro, ragazzi? Così? In giro? Allora, vi faccio due domande, va bene? Ok. La prima domanda sono, va dentro duro e tirato essi fuori molla bagnato. Spaghetti. Spaghetti. Spaghetti sentiamo da lei? No, no, la minima idea. Ah, Billona. La pasta. La pasta, ragazzi. Puoi ripetere? Entra duro e esce mollo. Va dentro duro e tirato essi fuori molla bagnato. Bagnatissimo, eh? La pasta. La pasta, no? La pasta. La pasta, no? Spaghetti? No. Come no? Non ho venito. Continuo a non capire. Dai, pensate, ragazzi, questo è molto facile, eh? Molto easy. Ah, secondo me è la pasta. Non è la pasta. Ma me l'avevo già fatta, è la pasta. Non è la pasta. Potete pensare ancora un pochettino, sì. Entra. Va dentro duro e tirato essi fuori molla bagnatissimo, eh? Ah, ok. Simone, non si possono dire a scherare da dentro. Ah, puoi dire tutto, hai possibilità di dire tutto. Può essere il cazzo. Cazzissimo, ah! Ma perché quale motivo lì ha detto cazzo? Perché? Entra duro e esce. Quindi quando butta cazzo dentro diventa dura lì? Ah no, è già dura. Quindi quando esi fuori molla è bagnato. Eh, sì, perché l'hai bagnato. Eh, infatti, se hai bagnato è un problema. Esatto. Eh, allora quindi non è... Diciamo che quindi non è cazzo, allora. Eh, allora non saprai. Non saprai. Ma anche voi avete pensato quella. Allora vi faccio... Eh, è cibo. Scusa. Non è cibo. Non è... Io, io, bella, bella di Verona City siamo con... Giorgia. Giorgia. Giorgia Gade, Amin. Amin, intanto lei sei molto carina. Io, lui, sei carino? No, dite, intanto sei molto carina. Ah, grazie. Piacere, bro. Piacere. Che fatti in giro ora? Un po' in giro. In giro? Sì. Con amici. Ah, con amici. Siete di Verona qua? No. Siete di Verona? Mi hai di Rovereto, io sono di Riva. Ah, tu sei? Riva di Garda. Ma in Riva di Garda. Che fatti allora qua? Io sono uscita con il mio ragazzo. Siete pronti per la domanda? Va bene. Allora la domanda di oggi è molto facile. Va dentro duro... Voi stai ridendo, va? Va dentro duro, è tirato fuori, esci, molle, bagnato. Che cos'è, secondo voi? Non ho capito. Va dentro duro, è tirato fuori, esci, molle, bagnato. Che cos'è? Ciclo. Ah? Ciclo. Ciclo, dai. Ah, ma no, ma... No, no, il Tampax. No, com'è che si chiama? Tampax. Aspetta, aspetta, è la domanda di nuovo. Sì, è Tampax. Va dentro duro, è tirato fuori, esci, molle, bagnato. Che cos'è? Tampax. Cosa non ho capito? Tampax. Cosa significa Tampax? Niente, assorbente interno. Bro, tu invece, dai, spara qualcosa qua. Molto easy, molto facile. Eh, questo lo saprai. Non lo saprai? No. Cazzo, cioè? Cazzo. Cazzo. Eh. Non è cazzo, Dione, è capato. Pensa bene. Quindi, secondo te, cazzo? Quando... Vabbò, ma dipende dalle circostanze. Io, io, bella, bella di Verona City. Siamo con? Carlotta. Ah, Carlotta. Nettmi. Nettmi, guarda, intanto siete molto carini. Grazie. Intanto siete molto carini. Grazie. Siete di dove? Di Verona. Ah, siete in Verona qua? Sì. Che fatti in giro? Eh, niente, ci facciamo in giro. Rimorcare le tipi? No, no. Allora siete pronti per indivinerlo? Eh, sì. Allora la domanda di oggi è molto facile. Va dentro, duro, va dentro, duro, tirato essi fuori, mola bagnato. Che cosa è? Eh, la spugna. Ah, la spugna! La spugna! Ah, la spugna! La spugna? Non, la spugna è un po' vicino, non è tanto male. Lui invece? Non lo so. Il tampa. Tu che sei maggiore. Il tampa. Tu sei maggiore. Lui è un po' quasi quasi. Tu sai già, no? Spara! Molto easy, bellone. No. Avete capito la domanda? Se volete le ripeto di nuovo. Va dentro, duro. Ok. È tirato, essi fuori, molla, molle, è bagnato. Mi viene da pensare male. Dai, puoi dire tutto quello che arrivo in mente? Eh, non lo so, cioè, il cazzo, che cazzo mi chiedeva di coso? Ma allora, secondo te, quando metti il pizzole dentro, diventa dura lì, o quando tira è bagnato, che non so? Tira? Che cazzo? Quindi quando tira è bagnato, allora? Eh, potrebbe essere di sì. Vabbè, lei invece? Non lo so. Non lo sai? Allora ragazzi, fate sapere noi in commento. Yo, yo, bella, bella pippa di Bolzano, si, siamo con... Vlada. Ah? Vlada. Vlada, lei invece? Nicoletta. Ah? Nicoletta. Nicoletta, andando, siete molto carini. Grazie. Sette di dove? Bolzano. Bolzano, si, che fatti in giro? Niente, cioè, compro cose. Compri qualcosa, avete fatto il suo opinione, l'ho visto? H&M? Sì. Avete fatto un 2.000 euro di shopping, vero? Magari. Ah, non è magari, siete ricchi, No. Dai, fatti vedere un pochettino, siete molto carini, dai, mi cingho qua, fate un piccolo giro così, di vedere. Dai, fatti no. No, se non vuoi, allora non fai niente. Partiamo con un devinello, siete pronti, vero? Sì. Da una a dieci, quanto siete pronti? Dieci. Dieci, lei invece? Cosa? Da una a dieci, quanto siete pronti per un devinello? Sette. Sette, allora un devinello di oggi è molto facile, tu sei più pronta perché hai scelto con dieci. Un devinello va dentro duro, è tirato fuori, esce molla bagnato, secondo lei che cos'è? Puoi fare? Va dentro duro, è tirato fuori, esce molla bagnato, secondo lei che cos'è? Dai, spara, sei molto intelligente di spingere. Sette molto intelligente, allora andiamo con lei. Un devinello va dentro duro, è tirato fuori, esce molla bagnato, secondo lei che cos'è? Dai, sparate, è molto facile, è molto facile. Gonfiabile. Ah, gonfiabile? Più vicino non è gonfiabile. Non lo so. Come non lo sapete? Spara molto easy, molto facile. Non lo so. Bella ragazzi come voi, ha siti bolsano. Belli ragazzi, carini come voi. Cosa domanda? Molto facile. Non lo sai. Non lo sai? Un indizio. Un indizio? un tipo un po' duro, non lo sai? Si mangia. Quello che è pesato voi non è quello. Avete pesato male, già io lo so. Quella roba si mangia. Ok. Sì. Certo. C'è un po' dolce, non lo so. Oddio, non lo so. Allora, se non sapete, non fa niente. Ragazzi, fate noi sapere in commento. bella bella di Verona City, siamo con? Camelia. Ah, Camelia. Fede. Fede e Gardè, intanto siete molto carini. Grazie. Sette di dove? Di Verona. Verona City. Trento. Trento City. Che facciamo qua adesso? Ehi, un giletto, sì. Non siamo di qua, vero? No, no. Siamo di Trentino? Sì. Quindi siamo qua per spaccare le pipa. Chiaro, chiaro che sì. Ah, avete sentito, ragazzi, te invece che fai di qua? Un giro. Un giro sei di qua, Verona. Siete pronti per l'indovinello? Sì, sì. Dai, fatti vedere come sei messo. Dammi, 5 che fai un piccolo giro così. Allora, ben avvicinata a me anche a te. Mamma mia, incredibile. Allora, la domanda di oggi è molto facile, un dovinnello. Va dentro duro, è tirato fuori e si molla bagnato. Che cosa è secondo te? La pasta. La pasta? Sì, i spaghetti. Ah, più o meno vicino. Spaghetti? No, non è spaghetti. Non sono spaghetti. Va dentro duro, è tirato e si fuori molla bagnato. Lo spazzolino? L'uovo? Ah, un po' vicino. Siete forti per individuare? Lo spazzolino? No, ancora un po' vicino. Dai, spara, spara, molto easy, molto facile. Bell'assagero. Dai, se avete qualche altra idea, buttate dentro. No. Come no? Va dentro duro e esce mollo? No, va dentro duro e si è tirato fuori molla bagnato. Hmm? Si. Hmm. Non lo so. Come non lo sapete? Bella raga come voi, siete verona qua, raga, DJ. gel. Come è buo? Spara. I spaghetti no, la pasta no, l'uovo no? Si. Wesh. Lo spazzolino no? No. Non lo so, non lo so. E invece? Ne lo so, giuro. Bella raga come te che vengo da V30. Eh, ok, lo sappiamo. Allora fate sapere noi in commenti. Yew, yew, bella, bella, pippa di Bolzano City. Siamo con? Dania. Già lo sapete già? Martina. Anche lei? Jessica. Jessica, intanto siete molto carina raga. Grazie. Siete di dove? Bolzano. Bolzano City. Che fate in giro? No, niente, un giro. In giro a flaxare con leone di Bolzano? Sì, Easy, no? Siete pronti per un devinello? Certamente. Allora, la domanda di oggi è molto facile. Va dentro duro e è tirato e esce fuori un molla bagnatissimo. Che cosa è? L'Italia lo pensa. Oddio, non lo so. Ah, come ne lo sai? Bella donna come vuoi a City. Non ne ho idea, davvero. Puoi dirlo a me? Non ne ho idea. Puoi dirlo a me? Massimo, vai. Hai capito o no? No. Ripeti? Allora, va dentro duro e è tirato e esce fuori un molla bagnato. Che cos'è? Che c'è? Non posso parola? Ma questo indovinevi. Vabbè, a Waller. Dai, sparate, era molto facile. Ma dentro dove? Dentro, dentro, via chi è? Ma dove? È un oggetto? Dai, lo do in indizio. Dentro lì, bocca. Va dentro duro e esce fuori? Ghiacciolo, 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 ghiacciolo. Non è ghiacciolo. Gelato. Ah, gelato è un po' vicino, però gelato non è duro quando lo metti in bocca. E che cazzo? Granita. E esce mollo? Sì, esce mollo, esatto, sì. Cunga, anche bagnato. La ciunga, la ciunga mentre duro esce molla. Veramente, sai quanti persone hanno risposto cosa domanda? Più di venti persone, sei l'unica donna che hai trovato, anche in maggio. Grazie, ragazzi. Brava, brava. Ragazzi, questa è grazie all'intelligenza albanese. Di City Bolsano. E anche al Corcetti. Bolo City, ragazzi, qua non si scherza, bravo. Noi scherziamo qua, da spaccare sempre. Bella, bella di Verona City, siamo con... Pietro. Pietro. Giorgia. Giorgia, piacere, intanto sei molto carina lì. Grazie. Piacere, bro. Piacere, siete finanziati? No. Come no? Eh, no. Però è bella, ragazza, cosa aspetti? Qua ci stiamo conoscendo, primo appuntamento. Primo appuntamento, siete pronti per la domanda? Vai. Allora, indovinele di oggi, molto facile. Quando metti dentro, va duro, però quando tira fuori e molla, che cosa sarebbe? Eh, pisello, cento per cento farà. Boh, mi è venuto in mente quello per primo. Va bene, lei invece? Boh, però che dice lui? Cento per cento. Però mi sa che è un'altra cosa. Un'altra cosa. È un indovinello per qualcosa, no? Allora, pensati tre secondi farà, non è pisello, sai? No. Non sono bravo in questo. Dacci inizia, dacci inizia. Va dentro duro, tirato, esce fuori, mola, che cosa è? Una mela nel frullatore, che ci facciamo il frullato. Sicura? Vai, questa va bene, questa va bene. Lei invece? Sì. Eh, non ho immaginazione, vi invito quello? Va bene, ragazzi, fate noi sapere in un commento. Yo, yo, bella, bella di Verona City, siamo con... Alessia. Ah, Alessia. Sofia. Sofia, guarda, intanto siete molto carini. Grazie. Sette di dove? Verona? Sette di dove? Di qua. Di Verona City. Anch'io. Che fatti in giro adesso? Un giro. Che fatti? No, dobbiamo solo fare un giro. Solo in giro così? Sì. Intanto siete molto carini. Grazie. Fatti un po' di giro, fatti vedere come sei messo. Dammi cinque qua, vecchia. La roba! Veni vicino a ramangere qua. Mamma mia, incredibile. Allora la domanda di oggi è molto facile. Un dovinello, no? Va dentro duro e tirato e essi fuori molla bagnato. Che cosa è secondo lei? Boh. Boh. Come Boh? Dai, spara. Eh, non lo so. Eh, come non lo so? È bella donna come te a City Verona qua, vecchia. Non lo so. Sentiamo di Sofia, no? Va dentro duro e tirato e essi fuori molla bagnato. Che cosa sarebbe secondo lei? Boh. Come Boh? Pensa a quel cosina, ragazzi. Secondo te? Dai, spara, vicino a me. Vicino a me. Dai, mi un po' di l'aria qua a City Verona. Non lo so. Dai, almeno sparate uno a uno. Spara o qualcosa. Quello che arriva in mente, puoi dire? Non lo so. Va dentro duro e tirato e essi fuori molla bagnato. Che cos'è? Anche tu ce l'hai qua. Ce l'hai qua? Nel corpo ce l'hai già. Ma secondo me non è quello che pensi. Dai, quello che pensi puoi dire? No. Dai, puoi dire, vecchia. Come no? No. Vi dico qua, nessuno non senti. Lei invece? No, tu non ce l'hai, però lei ce l'ha. Sì. Qua tu non ce l'ha, però lei ce l'ha qua. Se volete ti dico io. Cosa c'è in bocca? La ciunga. Esatto, il risposto è la ciunga. No? Mi ma cosa hai pensato prima, puoi dire anche quello. No, no. Hai pensato patata vera. Stato un piacere ragga. Folle. Abonnate via like ragazzi. Like. Ciao. Folgen, abonnieren und like dalassen. Ja, man. Ciao.